Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di CronTV, incidenti stradali, il 2018 Annus Horribilis per il Cremonese. Sentiamo. 2018 Annus Horribilis, almeno stando ai dati sulla mortalità da incidenti stradali sulle strade della provincia di Cremona. Un bilancio da guerra con 25 morti e 1.549 feriti, ben 7 vittime in più rispetto all'anno precedente, addirittura 15 rispetto al 2016. I dati sono di un rapporto di Regione Lombardia sull'incidentalità stradale provincia per provincia. Un quadro in cui la mortalità 2018 sul Cremonese risulta tra i più pesanti a livello regionale. Ogni 100 incidenti si contano 2,6 morti nella provincia di Cremona nel 2018 contro l'1,5 in Lombardia, senza contare i 141,3 feriti contro i 137,1. Nel 2018 la metà dei morti sulle strade erano conducenti o passeggeri di autoveicoli, 6 le persone in bicicletta, 5 i conducenti di autocarri. Il maggior numero di feriti ha un'età compresa tra i 15 e i 29 anni e tra i 45 e i 64 anni. Statisticamente il maggior numero di incidenti è avvenuto nei mesi di aprile e giugno e luglio. L'indice di mortalità maggiore si registra nelle curve stradali, 86 incidenti con 8 morti e 113 feriti. E a proposito di trasporto pubblico, piovono soldi dalla regione per l'autostrada Cremona-Mantova e dallo Stato per le infrastrutture del sud della Lombardia. Ci spiega tutto Mauro Faverzani. Soldi dalla regione per l'autostrada Cremona-Mantova, per la precisione 1,2 miliardi di euro. Soldi dallo Stato per le infrastrutture nel sud della Lombardia. Sulla carta piovono soldi da tutte le parti per quanto riguarda il trasporto locale, ma l'esperienza insegna la prudenza, anche se positivo, e l'esito nell'incontro tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a Roma alla presenza del Ministro, dei Sindaci e dei Presidenti delle province di Cremona e Mantova. Il primo cittadino di Cremona, Gianluca Galimberti, ha chiesto un percorso parallelo tra la costruzione e l'autostrada che dovrà essere realizzata entro il 2026 e che affossa definitivamente l'ipotesi della riqualificazione della strada statale e il raddoppio ferroviario della linea DAE per Mantova per raggiungere una maggiore efficienza dei costi, tenendo anche in prospettiva la riqualificazione della paulese, ma c'è da chiedersi se gli venga data retta. Ha detto via social di aver trovato massima disponibilità, di aver riscontrato la disponibilità anche a individuare tempi e scadenze ben precisi, tuttavia ora le parole devono seguire i fatti. Un nuovo appuntamento a Roma è in agenda già per fine novembre. È di tre vittime il bilancio di un'esplosione avvenuta nella notte in un edificio a Quarniento in provincia di Alessandria. I vigili del fuoco hanno infatti ritrovato il corpo di un loro collega che era rimasto sepolto tra le macerie. I tre pompieri morti avevano 47, 38 e 32 anni. Altri due vigili del fuoco, un carabiniere, risultano feriti e stati trasportati all'ospedale di Alessandria di Asti. Alcuni resti umani sono stati trovati nel lago di Annone Brianze, in provincia di Lecco, non lontano dal tracciato della superstrada 36 Milano-Lecco. Si tratta di una mandibola e altre parti di scheletro. Le ossa sono state recuperate e sono ora sottoposte all'esame dell'anatomo patologo incaricato dalla Procura della Repubblica di Lecco. Il macabro rinvenimento è avvenuto in questi giorni, coperto da riservo delle forze dell'ordine, da parte di alcuni pescatori in località Isella di Civate, sulla sponda del lago che si estende oltre un ex campeggio. Nessuna certezza per ora sull'identità della vittima e tantomeno sui tempi cause del decesso, se si tratti di un uomo o di una donna. Dare l'allarme dopo il ritrovamento sono stati gli stessi pescatori stranieri originari dell'est, abituali frequentatori delle rive del lago di Annone, dove sono soliti anche accamparsi. Le ossa sono state viste nelle vicinanze del sentiero che si addentrano nella zona boschiva del lungo lago. Teheran inizierà a iniettare uranio in 1044 centrifughe, dando il via a un nuovo step di allontanamento dall'accordo nucleare. Lo ha annunciato il presidente iraniano Hassan Rouhani in una dichiarazione in un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di Stato iraniana. Il presidente iraniano ha reso noto che nei macchinari e nell'impianto nucleare di Fordo sarà iniettato l'uranio a partire da mercoledì. Il governo francese annuncerà domani nuove regole per facilitare l'immigrazione economica. Sarà consentito ai settori in difficoltà nel reperire mano d'opera di assumere stranieri. Lo hanno anticipato i media a fonti del governo di Edouard Fili. Negli ultimi sei anni non è cambiato nulla, ma non mogliamo, combattiamo tutti insieme contro il razzismo. È il messaggio postato da Kevin Prince Boateng sul proprio profilo Instagram dopo il caso Balotelli di domenica. E dopo la brutta sconfitta di ieri sera nel posticipo di B della Cremonese a Cosenza, stasera torna a Barsport. Giorgio Barbieri e i suoi ospiti vi aspettano dalla Canottieri Bistolati per commentare il momento grigio-rosso e non solo. Questa per noi era l'ultima notizia, ma il TG torna come sempre domani alle 13.30. A tutti voi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Grazie.